Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, per alleviare i disagi dei pendolari è al vaglio l'istituzione di un minuetto diesel che percorra provvisoriamente il tratto ferroviario compreso tra Nocera e Cava. Dal momento che i lavori per il ripristino della linea ferroviaria Salerno-Nocera via Cava dei Tirreni, iniziati lo scorso 25 luglio, richiederanno ancora un po' di tempo per essere ultimati, in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico si tenta di correre ai ripari per alleviare i disagi dell'utenza. Nel dettaglio è al vaglio l'istituzione di una sorta di navetta per coprire il tratto tra Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni, da realizzare mediante convogli diesel. Per verificare l'affattibilità di questa ipotesi, nei giorni scorsi sono state effettuate alcune corse di prova con il minuetto diesel 012. Per l'occasione si è reso necessario ripristinare i deviatoi di Cava dei Tirreni e presenziare l'ufficio movimento dello stesso impianto. L'obiettivo pare dunque essere quello di dare il via a tale servizio provvisorio in concomitanza con la riapertura delle scuole in Campania. Ricordiamo che la percorrenza dei treni lungo il tratto tra Salerno e Nocera via Cava dei Tirreni è interrotta dallo scorso 20 gennaio, in seguito ad una frana all'altezza di Vietri sul mare. Per via del contenzioso scaturito tra il comune di Salerno e i proprietari dell'immobile faticente presente nella zona interessata dalla frana, infatti, solo a fine luglio è stato possibile avviare i lavori di demolizione e la realizzazione delle opere di contenimento. Sulla base del cronoprogramma stilato da RFI, i lavori dovrebbero essere completati entro 100 giorni. E adesso la cronaca. Un 38enne è stato arrestato a Maiori dai carabinieri della Compagnia di Amaffi, guidati dal capitano Alessandro Bonsignore, per aver violato il divieto di avvicinamento alla moglie. L'uomo era oggetto del provvedimento restrittivo che gli vietava di avvicinarsi alla moglie, dopo che quest'ultima aveva asporto denuncia per maltrattamenti, a seguito della quale si era attivato il cosiddetto codice rosso. Nonostante il divieto, l'uomo ha continuato a perseguitarla, avvicinandosi a lei e inviando le messaggi minatori. L'arresto è avvenuto in flagranza di ferita, una procedura che consente l'arresto anche quando la violazione non avviene sotto gli occhi degli agenti, ma viene rilevata successivamente grazie alle prove raccolte. L'uomo è stato condotto in caserma e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Colpi di pistola sparati a Salerno, in via Mauri, nel quartiere Mariconda. Spari anche a Pastena. Spari contro un'abitazione per intimidire, per vendicare qualcosa. Ci potrebbe essere una liti al culmine di una discussione nata per motivi ancora poco chiari, alla base dei ripetuti colpi di pistola sparati stamattina all'alba nel quartiere Mariconda a Salerno. Sarebbero almeno otto quelli esplosi da una pistola semi-automatica nella zona orientale della città di Salerno. Gli spari alle prime luci dell'alba, in via Raffaele Mauri, nei pressi della piazzetta, di viale delle vittime dell'alluvione di via Alfonso Lamarmora. È possibile che si sia trattato di una stesa. L'allarme stamani, prima delle 5, quando alla centrale operativa del numero di emergenza 112, è arrivata una segnalazione di colpi d'arma da fuoco nel quartiere, che ha fatto giungere sul posto alcune gazzelle dei carabinieri del nucleo radomobile di Salerno. Intervenuti sul posto anche i militari dell'arma del reparto investigazioni scientifiche, che nel corso del sopralluogo hanno rinvenuto diversi bossoli. Non risultano feriti, ma il primo piano dello stabile di via Raffaele Mauri è al Civico 2. Una vetrata restituisce l'immagine di un pannello di un tiro a segno, dove sono ben evidenti le crepe sul vreto da colpi di pistola. Pare che i proiettili sono stati sparati da un'auto di grossa cilindrata in corsa, che in più riprese, almeno tre volte a distanza di poco tempo l'una dall'altra, avrebbe percorso il tratto di strada di Mariconda con un obiettivo sempre ben preciso, l'abitazione al primo piano. Da capire il movente e se l'episodio è collegato all'esplosione di un altro colpo di pistola semi-automatica poco distante nel quartiere di Santa Margherita, in piazza San Martino, nei pressi di uno stabile dove circa tre anni fa un uomo, un noto pregiudicato, fu raggiunto da un proiettile al polso al terzo piano della sua abitazione. Gli uomini dell'arma, attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, avrebbero già individuato un'auto di lusso di colore scuro, che non si esclude possa essere provento di furto o presa a noleggio ed ascoltato alcune persone che potrebbero aver fornito elementi utili a ricostruire quanto accaduto all'alba di oggi. È chiaro che chi ha sparato si sia particolarmente accanito verso qualcuno che a più riprese ha cercato compulsivamente per regolare qualche conto, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti che potrebbero viaggiare su uno stesso binario, quello dello sgarro di una vendetta maturata anche per contrasti legati alla droga. Un dramma intorno alla mezzanotte si è verificato sulla strada statale 163 Amalfitana, nei pressi di Cetara. Un uomo che viaggiava a bordo della sua automobile verso Salerno avrebbe improvvisamente avvertito un malore, per poi fermare il veicolo e scendere dall'auto nel tentativo di riprendersi. Tuttavia è crollato al suolo subito dopo. Sul posto sono intervenuti prontamente gli uomini del 118, che in vano hanno provato a rianimare l'uomo. Per i rilievi del caso sono intervenuti anche i militari dell'arma dei carabinieri. L'accaduto ha lasciato sgomenti quanti hanno assistito al tragico evento. Il comune di Cava dei Tirreni ha emanato nei giorni scorsi il nuovo bando di gara per l'assegnazione del Palazzo delle Arti e della Cultura, meglio noto come Ex Mediateca Marte. Da oltre quattro anni lo stabile dell'ex Mediateca Marte, oggi denominata Palazzo delle Arti e della Cultura, sito in pieno centro storico a Cava dei Tirreni, attende un operatore commerciale che se ne aggiudichi l'assegnazione. L'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ha appena emanato un nuovo bando di gara che prevede un canone concessorio mensile che a base di gara è pari a 7.622 euro. La giudica avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In osservanza di quanto disposto dall'amministrazione comunale con delibera di consiglio numero 9 del 7 marzo del 2024, nel Palazzo delle Arti e della Cultura dovranno svolgersi, come in passato, attività artistiche, culturali e formative. Potranno essere svolte anche attività commerciali, ma nel caso di affidamento ad un ente del terzo settore, questo avverrà nel preciso rispetto di quanto previsto dal codice del terzo settore stesso. La gara in questione prevede l'attribuzione di un maggiore punteggio nell'offerta tecnica al partecipante che proponga di svolgere attività e servizi utili per la collettività, tra cui, a titolo esemplificativo, servizi per il turismo, gestione di un infopoint, offerta di una sala lettura aperta al pubblico, attività di formazione, organizzazione di mostre e attività culturali, in aggiunta alle attività già previste nel periodo precedente, genericamente individuate come attività, per l'appunto artistiche, culturali e formative. Le tipologie di attività che potranno svolgersi nella struttura, quindi, potranno variare dal mero intrattenimento ludico allo svolgimento di laboratori dedicati alle lingue straniere e alle arti visive, musicali e teatrali, così come altre attività similari. Potranno altresì essere organizzati dei corsi di formazione dedicati alle materie suddette, così come potranno essere organizzati spettacoli o anche feste o attività museali. Potrà, inoltre, prevedersi l'offerta di percorsi formativi e di mostre d'arte, fruibili anche da parte di bambini e ragazzi di ogni fascia d'età, nonché da persone con disabilità. L'organizzazione delle attività nei vari ambienti della struttura dovrà tenere conto delle attività che verranno svolte contemporaneamente nello stesso piano e il tutto dovrà essere programmato in modo tale che non venga inficiata la qualità dei servizi da offrire. Le tipologie di attività, la loro organizzazione e la loro valenza, anche qualitativa, saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica in fase di gara. La capienza massima degli spazi è questa. Per il piano terra e i soppalchi, cumulativamente 100 persone. Per il primo piano e il piano ammezzato tra il primo e il secondo, in totale 185 persone, così come anche per il secondo piano. Si precisa però nella bando di gara che sarà imposto il divieto di utilizzo contemporaneo della sala convegni e del piano ammezzato e terrazza al massimo della capienza, nel senso che qualora i due spazi siano utilizzati contemporaneamente, il numero massimo delle presenze complessive dei due ambienti non dovrà superare quello delle 185 unità, ciò al fine di garantire il rispetto della normativa antincendio. E dopo un buon esordio estivo dell'aeroporto di Salerno-Costa da Malfi, si pensa già al futuro dello scalo aeroportuale, sul quale sembra voglia rilanciare Ryanair. L'aeroporto di Salerno-Costa da Malfi, inaugurato lo scorso mese di luglio e che, pur continuando ad essere operativo, sarà interessato da nuovi lavori di adeguamento nei prossimi mesi, dovrà superare il vero banco di prova al termine della stagione estiva che, notoriamente, è quella di maggior traffico aereo o comunque quella che esprime una domanda maggiore da parte degli utenti. Mentre non si ha ancora contezza sulla programmazione autunnale e invernale degli operatori che stanno già volando da e su Ponte Cagnano o su altri che potranno eventualmente aggiungersi, nelle ultime ore c'è stata una dichiarazione resa al quotidiano alla stampa dall'amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, secondo la quale l'aeroporto salernitano potrebbe diventare una base per la propria compagnia. Sulla scia delle frizioni che negli ultimi anni ci sono state a proposito di alcune scelte del governo italiano, Wilson ha dichiarato «Ci sono degli slot che possono interessarci ma non ci andremo perché hanno dei vincoli o non sono negli orari giusti o sono troppo cari. L'inate, ad esempio, è saturo e comunque non è di nostro interesse perché siamo già molto presenti a Bergamo e cresciamo a Malpensa. Fiumicino è un aeroporto molto caro e le spese incidono sul prezzo dei biglietti. E a quel punto la domanda se la compagnia aprirà altre basi in Italia ha risposto «Ci sono aeroporti in cui al momento non abbiamo basi, come Ancona, e un'altra a cui sto pensando è Salerno. Quest'anno trasportiamo oltre 62 milioni di passeggeri in Italia. È il nostro mercato di maggior successo a dispetto del governo centrale che non fa nulla per incoraggiarci a differenza delle regioni». Negli ultimi mesi una delle regioni che ha tessuto un rapporto intenso con Ryanair è stata, ad esempio, la Calabria e adesso, a quanto pare, anche Salerno potrebbe incrementare e di molto i voli della nota compagnia irlandese low cost. A San Marzano sul Sarno gli attuali amministratori dichiarano di aver voluto fortemente gli interventi che miglioreranno alcune strade cittadine. Ma l'ex sindaco non ci sta e rivendica il merito. Per l'ammodernamento della segnaletica stradale, per l'asfaltatura delle strade, il miglioramento dell'illuminazione pubblica e i sistemi di videosorveglianza che hanno tutti riguardato il territorio di San Marzano sul Sarno, Carmela Suottolo rivendica i meriti per aver dato un contributo nel normalizzare il volto di questa città. Solo che oggi Suottolo non è più sindaco di San Marzano. A capo del Comune dell'Agro c'è Andrea Annunziata che proprio di recente alcuni degli attuali amministratori, in particolare l'assessore Belvedere, hanno dichiarato di aver fortemente voluto il nuovo piano di sicurezza e di star lavorando per risolvere i problemi della segnaletica orizzontale, verticale e l'illuminazione in alcune zone della città che presentavano criticità. Ma l'ex sindaco ha deciso di replicare. Tali interventi erano stati pianificati e finanziati dalla sua amministrazione comunale. Prima ancora della sfiducia che avvenne lo scorso anno e portò di fatto a nuove elezioni con coperture economiche già individuate e appalti quasi completati. Quindi l'amministrazione oggi in carica avrebbe solo proseguito tali opere. Suottolo invita in pratica a dare a Cesare ciò che è di Cesare. Il sindaco uscente ha ribadito l'importanza di riconoscere i risultati ottenuti dalla precedente maggioranza e ha invitato la nuova amministrazione comunale a concentrarsi su nuove iniziative sottolineando la necessità di onestà intellettuale e di trasparenza nei confronti dei cittadini. I lavori di ammodernamento della segnaletica stradale quelli che prevedono di asfaltare strade o di illuminare zone della città di San Marzano sul Sarno e le opere sulla videosorveglianza sono sicuramente interventi nella direzione giusta dice il suottolo tuttavia non posso fare a meno di sottolineare come la nuova amministrazione comunale stia esaltando interventi che non sono frutto del suo lavoro. Appropriarsi di cose altrui senza riconoscerlo e senza aggiungere altro è un esercizio sterile e poco rispettoso del lavoro altrui. Il 13 ottobre 2023 come ben documentato la mia amministrazione comunale ha ricordato Carmela Suottolo ha deciso una serie di interventi lungo il tratto stradale di Via Roma e altre strade di competenza provinciale nella stessa riunione verbalizzata e seguita da atti amministrativi si è deciso di intervenire in piazza Guerritore di installare quadri in telecontrollo e di realizzare nuovi impianti di videosorveglianza abbiamo previsto e trovato copertura per la sostituzione dei pali della pubblica illuminazione e per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione nel parco urbano ha continuato lei a chi sembra essersi distratto ricordo che gli interventi su Via Giovanni XXIII via Matteotti via Gramsci via Pendino e via Termine Bianco furono già attivati durante il mio mandato a chi adesso gioisce per questi interventi che noi abbiamo progettato finanziato appaltato e quasi realizzato lasciando solo il compito di terminarli dico che è giunto il tempo di fare altro e di più resto in campo per ricordare la verità e per sollecitare questa amministrazione comunale a fare meglio ha concluso l'ex sindaco Suottolo al Via lunedì 26 agosto al centro e nelle frazioni di Cava dei Tirreni le operazioni di pulizia delle caditoie per agevolare il deflusso delle acque piovane prevenire è sempre meglio che curare così prima che giunga la stagione delle piogge al fine di scongiurare in occasione di importanti precipitazioni che le acque piovane ristagnino provocando possibili allagamenti o disagi nella città metelliana nei prossimi giorni sarà avviato un intervento di pulizia delle caditoie e di tutti i punti di raccolta delle acque piovane quali bocche di lupo grate e relativi condotti di adozione in quest'ottica è stato stilato dalla Metellia Servizi un cronoprogramma degli interventi che interesseranno le strade del centro cittadino e delle frazioni e salvo variazioni prenderà il via lunedì 26 agosto con le operazioni che si svolgeranno in piazza Vittorio Emanuele II Largo Bonifacio e piazza Abro e si concluderà il 9 ottobre con gli interventi previsti in via delle arti e dei mestieri e via San Giuseppe al Pennino nelle 48 ore antecedenti agli interventi sarà installata l'apposita segnaletica regolamentare per far presente ai cittadini le zone interessate dei lavori è bene prestare attenzione perché prevista la rimozione forzata dei veicoli trovati in sosta che possano intracciare l'esecuzione dei lavori è partito il programma messo su dalla materia come ogni anno siamo tempestivi perché in caso di alluvioni o di precipitazioni molto importanti noi ci cauteriamo per tempo e stiamo facendo la pulizia programmata su tutti i territori di cave dei tirreni delle catitoie in modo che possono raccogliere l'acqua in più che dovesse cadere il cronoprogramma completo degli interventi è disponibile sul sito www.cittadicava.it e ci fermiamo adesso per una breve pausa zero stress per riparare la carrozzeria della tua auto restyling car in via starza a cava dei tirreni e specialista in riparazioni gestione sinistre con fornitura di auto sostitutiva detailing completo previsioni per oggi nel pomeriggio sulle coste cielo sereno o poco nuvoloso in montagna alternanza di sole e nubi sparse in serata sulle coste schiarite ma con velature in montagna cielo sereno o poco nuvoloso previsioni per domani al mattino sulle coste cielo sereno o poco nuvoloso in montagna cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio sulle coste cielo sereno o poco nuvoloso in montagna cielo sereno o poco nuvoloso ed eccoci in studio per parlare di sport calcio è entrata nel vivo ieri venerdì 23 agosto e si concluderà lunedì 26 agosto la prima giornata del campionato di serie C girone C 2024-2025 sono scelti in campo ieri Giuliano Taranto 1-0 Juventus Next Gen Cerignola 3-4 Latina Casertana 1-1 sabato è in programma Sorrento Catania domenica invece scenderanno in campo Messina Potenza AZ Picerno Avellino Turris Monopoli la giornata si concluderà lunedì con Benevento Cavese Foggia Trapani e Crotone a Tim Altamura e lunedì 26 agosto la Cavese debuterà in campionato a Benevento sentiamo le ultime notizie La quota dei 600 abbonamenti per le partite casalinghe degli Aquilotti è stata superata questo era l'auspicio primario della società della Cavese in vista dell'inizio del campionato dato che Cavare Tirreni sportiva non ha una grossa tradizione di abbonati i tifosi hanno più la tendenza ad acquistare di volta in volta i tagliandi partita per partita a seconda di come si mette il cammino della squadra metelliana in base ai risultati che ha fatto e quei sostenitori che hanno sottoscritto la tessera lo hanno fatto perché hanno già un'idea chiara delle potenzialità di questa Cavese oppure per un atto di sostegno alla società che è arrivata in un campionato come quello di C che presuppone più investimenti economici più di 600 abbonati sono un buon numero per la realtà di Cava ma è un dato che potrà crescere se la compagine allenata da Raffaele di Napoli farà bene in casa del Benevento quando giocherà lunedì 26 per la prima giornata del campionato di Serie C la scadenza della campagna abbonamenti è data per il primo settembre quindi per il giorno prima della prima gara interna di campionato che gli Aquilotti disputeranno contro il Crotone perciò c'è ancora altro tempo per registrare più abbonamenti Benevento Cavese partita prevista allo stadio Santa Colomba intitolato alla memoria di Ciro Vigorito alle ore 20 e 45 è la gara che lunedì misurerà le ambizioni delle due squadre ma più pressione alla vigilia la potranno avvertire i beneventani chiamati a un campionato competitivo e con qualche problema dovuto alle assenze in difesa e a centrocampo la Cavese non dovrebbe avere grosse difficoltà di formazione e cercherà di sfruttare a proprio vantaggio l'entusiasmo popolare dopo la presentazione svolta l'altro ieri non potrà esserci la tifoseria di Cava a Benevento ma almeno i giocatori devono mettere in campo energie positive da parte loro non ci sono pressioni di sorta la probabile formazione della Cavese per lunedì Boffelli Piana e Tropea Fornito Peretti e Loreto Marchisano Pezzella Vigliotti Fella e Citarella mister Raffaele di Napoli potrebbe comunicare già domenica alla squadra dopo la rifinitura le convocazioni invece lo schieramento ipotizzato per il benevento calcio allenato da Gaetano Auteri dovrebbe prevedere Nunziante Viscardi e il nuovo acquisto Ferrara Prisco Berra e Toshka Lamesta Pinato Manconi Talia e Lanini occhio a Starita attaccante esterno che potrebbe insidiare Lanini tra i giocatori che non vedremo all'opera Ivari Meccariello Pastina Squalificato Carfora e Nardi l'arbitro del derby che in campionato torna a disputarsi dopo 13 anni sarà il signor Valerio Pezzopane dell'Aquila i suoi assistenti Spataro di Corigliano Rossano e Massari di Molfetta Quarto uomo Acqua Fredda anche lui di Molfetta Il centro sportivo italiano di Cava dei Tirreni esprime soddisfazione per il successo della manifestazione appena conclusa sia all'interno del nuovo parco urbano di Santa Lucia Vediamo Ad animare i nuovi parchi urbani recentemente inaugurati nella città di Cava dei Tirreni ci sta pensando il centro sportivo italiano Si è appena conclusa infatti un'ultima manifestazione circa un centinaio di ragazzi accompagnati dai rispettivi genitori si sono susseguiti all'interno del parco urbano di Santa Lucia per partecipare alla manifestazione di Gioca Sport indetta ed organizzata dalla SDXI Cava Sport e dal centro sportivo italiano della città metelliana Due ore e mezza di intensa attività con la pallavolo il basket il minicalcio un percorso misto conclusosi poi con il tiro alla fune dove i bambini si sono ulteriormente divertiti Una bella iniziativa è stato il commento del dirigente Pasquale Scarlino dopo l'esperienza vissuta a San Pietro l'abbiamo ripetuta qui in questa splendida location quella di Santa Lucia e ci apprestiamo a vivere venerdì 30 agosto la terza e conclusiva manifestazione all'interno del parco urbano di Cava Centro La nostra attività continua a Scarlino oltre al puro momento sportivo molto importante per i ragazzi intende maggiormente valorizzare e promuovere questi luoghi aggregativi quali sono appunto i parchi urbani La manifestazione è stata patrocinata dall'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ed inserita nel cartellone estivo dell'attività sportiva dell'ente comune A portare il saluto dell'amministrazione è stato il consigliere comunale Franco Manso Il Centro Sportivo Italiano dà quindi appuntamento a tutti i ragazzi per venerdì 30 agosto per la manifestazione finale con una premiazione speciale E questa era la nostra ultima notizia grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata Grazie a tutti